Oggi la Caritas riparte per l'Abruzzo, i volontari della Caritas ripartono per l'Abruzzo. Quali le emergenze? Cosa andrete ad affrontare in Abruzzo? Adesso è il turno della diocesi di Agrigento che garantirà un turno dal giorno 7 al giorno 21 di giugno. Noi saremo 9 persone all'Aquila nella zona a noi affidata che è la zona di Paganica e Onna. Affiancheremo la Caritas diocesana dell'Aquila e le Caritas parrocchiali nei compiti di ascolto e di accoglienza dei bisogni delle persone che vivono nelle tendopoli ma anche delle persone che non vivono nelle tendopoli perché molti si sono sistemati nei giardini, nei prati, nelle aiuole, nel centro e anche nella periferia dell'Aquila e di tutte le frazioni che fanno capo a questa città. Volontari dell'Arcidiocesi di Agrigento ritornano in Abruzzo perché lo siete già stati una volta, avete effettuato un sopralluogo. Cosa vi ha richiesto la gente? Quali sono i bisogni? Noi siamo stati lì all'inizio del mese di maggio e ancora la gente sentiva l'esigenza di prima necessità perché è vero che sono arrivati degli aiuti, è vero che la Caritas per prima si è spesa per garantire l'indispensabile ma di fatto la diffusione delle persone in tutto il territorio perché nella provincia dell'Aquila le persone si sono distribuite per come potevano e come si sentivano più sicure facendo anche delle tendopoli informali nei posti più disparati e quindi molte persone ancora hanno necessità di essere raggiunte per delle esigenze primarie. Adesso si comincia a sentire il problema di settembre. Molte persone ci chiedevano quando torneremo alla normalità, ci chiederemo ma noi a settembre i nostri bambini avranno una scuola, ma noi a settembre potremo ancora pensare a una normalità di vita. E' chiaro che in questo momento quello che noi possiamo fare come volontari è fondamentalmente ascoltare, ascoltare, raccogliere i bisogni, aiutare anche a mettere ordine nelle richieste delle persone proprio perché a volte arrivano molte, sono confuse, a volte neanche le persone effettivamente riescono bene a capire di cosa hanno bisogno per prima e poi cosa può venire dopo e quindi dedicheremo questi 15 giorni proprio a questo tipo di lavoro.